ciao scorpione benvenuti alla vostra lettura di tarocchi per il mese di dicembre qui comanda la tarot la stella come state scorpioncini vedremo che accade questo mese con tarocchi arcani maggiori e minori charms e oracoli iniziamo dal vostro primo alleato 14 una bellissima civetta o guffino apre come una gabbia e dice truth be told è una maschera che la verità sarà rivelata quindi verrà fuori e questo vi darà un grandissimo senso di liberazione scorpione guardate come spalancare una finestra escono questi petali come dei cuori quindi potrebbe essere qualcosa rimasto all'oscurità o celato per tanto tempo può parlarci anche dei sentimenti di qualcuno che qualcuno finalmente vi svela cosa prova quindi può parlarci di una dichiarazione o semplicemente che una verità a voi fastidiosa finalmente vede la luce e questo crea liberazione perché 14 è anche il numero della temperanza della quiete dopo la tempesta negli arcani maggiori però parla anche di onestà finalmente l'onestà accettare le cose per come sono uscire fuori da una negazione o dal non essere capaci di poter di vedere la verità le cose così come sono il potere di essere trasparente autentico parla anche di chiarezza e di comunicazione cristallina scorpione ma potrebbe anche parlare dire che siete voi a dover dire la verità a qualcun altro o dimostrare di aprire la comunicazione comunica con gli altri in modo assertivo osserva cosa condividi con gli altri e di la verità rispetto a chi sei rispetto ai tuoi bisogni e osserva che cosa questa verità porta e comporta scorpione la verità l'onestà e vediamo chi è il vostro alleato spirito guida degli animali totem per dicembre 30 grasshopper spirit lo spirito della cavalletta take a leap of faith ti dice di smettila di essere cinico scorpione dai questo salto di fiducia a tanti significati un salto di fiducia vuol dire di dare un primo passo per alcuni di voi si tratta di un salto nel vuoto nel senso che non si vede vi richiede comunque di fare uno sforzo di uscire da questa zona o corazza in cui vi siete ficcati e uscire fuori dare un salto di fiducia e anche dare un salto di qualità ma comunque uscire da una stasi vedete da una caverna scorpione e salta ti dice salta là fuori e anche la corona la corona dell'imperatrice 30 ridotto diventerà 3 negli arcani maggiori si creativo abbi fede anche nelle tue capacità non essere cinico si creativo questo è il messaggio che arriva vediamo chi sono i vostri alleati arcani maggiori e minori che accade allo scorpione dicembre abbiamo un 4 di bastoni fuoco abbiamo asso di coppe wow scorpione abbiamo il matto abbiamo asso di spade e sotto il mazzo asso di bastoni 3 assi scorpione e jackpot wow fuoco aria e acqua è un arcano maggiore scorpione dal passato 4 di bastoni qua parla di unione può darsi che siamo un progetto un feste è un festeggiamento questo è un brindisi una celebrazione qualcosa di nuovo qualcosa che avete fatto bene magari qualcuno di voi parla anche una celebrazione nel passato recente poteva anche essere il vostro compleanno è una carta piacevole parla di passione parla di costruzione parla di basi solide vedete che c'è anche un castello e tutti che fanno festa è come per celebrare qualcosa di solido si sono piantati dei buoni semi in passato questa sensazione nel presente abbiamo un asso di coppe che è come il santo graal l'asso di coppe è come tutti gli assi ve ne sono usciti mentre in questa lettura significano azione nel mondo opportunità le coppe sono le nostre emozioni sentimenti e del vostro elemento acqua anche di cancro di pesci e parla di un grande amor proprio che finalmente è come la scoperta di questo amore incondizionato vedete come l'acqua insomma l'acqua della coppa avete fatto crescere questa piantina o state imparando ad amare voi stessi o è l'universo che veramente vi sta apporgendo questa nuova coppa di amore scorpione arcano maggiore unico della lettura è il matto lo zero nel prossimo futuro che ci parla proprio di un nuovo inizio se eravate tristi cinici sappiate che questa è come una ventata di aria fresca il matto è colui che vi dice che tutto è possibile tutto è zero vuol dire che tutte le possibilità sono aperte senza nessuna restrizione vuole ricordarti che il tuo bambino interiore vuole urlare giocare a cavallo vuole credere ancora che tutto sia possibile non che tutti i cammini siano sbarrati nella tua vita vedete pronto o a volare con la scopa o a saltare dal burrone e va bene fa yes questo urlare di gioia di sapere che tutte le possibilità sono aperte scorpione arcano maggiore e come se non bastasse ti dà tre assi nuove idee una nuova consapevolezza nuova creatività nell'aria vedete come se stesse disegnando con la sua spada tanti nuovi progetti però con gioia non è quell'ansia di ma dove inizia proprio gioia e anche qui l'asso di bastoni è come se le sue passioni volessero di nuovo prendere forma è proprio un grandissimo cambiamento in atto scorpione da questo asso di coppe dal vostro centro dal vostro chakra del cuore è come se passione e idee poi venissero a seguire quindi è per quello che ti chiede anche questo salto di fiducia ci sono grandi novità all'orizzonte tre assi scorpione wow e il matto speranza vediamo cosa dicono gli arcani gli oracoli rispetto alla situazione amorosa dicembre scorpione 21 le uova 17 comunicazione ecclesidra scorpione guardate un po 21 e 12 progetti qualcosa di nuovo osservate il verde speranza la nascita potrebbe essere di un nuovo amore di un nuovo sentimento di fare progetti con qualcuno o un sogno si realizza qualcosa si schiude qualcosa si sblocca in amore 21 e l'ultima carta del marzo sarebbe il mondo quindi è come se un ciclo magari di solitudine per molti di voi di essere single si chiude e se ne apre uno nuovo questo uovo nuovo parla dell'apertura di un nuovo ciclo più carico di speranza scorpione dove sognare è possibile vi chiede di aprire la comunicazione quindi di essere come la verità no di essere onesti di essere autentici su chi siete non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili non abbiate paura di esprimere voi stessi esprimere anche i vostri bisogni senza il paura di rifiuto di abbandono osate vedete dice qua osate parlare la bc della comunicazione la verità renderà liberi comunicate esprimetevi con gli altri e non isolatevi ovviamente cercate la comunicazione e gli accresidra il tempo la durata qui parla che forse tra un anno sarete nel posto in cui vorrete stare davvero o che 12 mesi cosa vi rappresenta scorpione progetti comunicazione durata forse ci parla di un progetto a scadenza forse ci parla di qualcosa che è evoluto dal destino perché ci sono lo spazio i pianeti che girano qualcosa che forse ci si è gestato in un intero ciclo cosa dicono i cuori per lo scorpione a dicembre lo specchio dell'acqua ti dice le emozioni sono naturali e necessarie nella nostra vita ma possono anche distorcere la nostra percezione e onnubilare la nostra visione quindi per vederci chiaramente devi lasciare andare il risentimento alcuni di voi non hanno perdonato qualcuno o ferite del passato che durano da tanto tempo però vi dice che queste ferite non rimarginate scorpione vedete non vedete il vostro vero riflesso vedete un riflesso distorto della verità nell'acqua perché è coperto dalle nostre emozioni e quindi la visione è puramente soggettiva ma non oggettiva quindi vi dice per vederci chiaro dovete abbracciare il perdono perdono non importa se si ha qualcuno o a voi stessi il perdono è l'unica cosa che rende liberi scorpione liberi di vivere la vostra vita la vostra vita sentimentale senza influenze e un angelo con una rosa un cuore rosa dice che l'accettazione è la chiave alla pace interiore a a volte dobbiamo accettare le cose così come sono se non riusciamo non possiamo cambiarle non c'è altro da fare che accettare ciò che va oltre il nostro controllo quindi scorpione infatti non possiamo controllare dominare tutto a volte bisogna seguire semplicemente il flow il corso delle cose così come sono e qua c'è come una specie di angelo che ricorda un po l'angelo della temperanza degli arcani maggiori blu blu e cosa dicono gli sharks per lo scorpione a dicembre abbiamo un gatto qualcuno che ha un gatto o che ama i gatti ma ricorda un po questo gatto con il muso appuntito è la dea bastet ricorda un po dell'egitto qualcosa che si lega all'egitto generale il gatto comunque parla di indipendenza di darsi la priorità di non avere padroni di essere uno spirito libero un angioletto di nuovo è come ricorda un po anche il natale ma in generale è un simbolo di protezione quindi attenzione anche ai segnali piumati che incontrate durante le vostre giornate se state pensando fortemente a qualcosa qualcuno e trovate una piuma per terra è l'universo che vi manda una conferma è un sì quella cui stavi pensando è giusto una foglia scorpione questa foglia parla di leggerezza c'è bisogno di essere un po come lasciarsi trasportare nell'aria senza soffrire diciamo come questa foglia parla di leggerezza ma anche fiducia nell'universo che non c'è bisogno che dobbiamo sempre provocare tutto noi permetterti anche un non fare dice non sei un essere e human doing tu sei un human being sei un essere umano non un fattore umano uno che deve sempre fare qualcosa quindi ti dice permettiti semplicemente di essere a volte di essere presente non per forza nell'azione non per forza provocando tutte le cose della tua vita leggerezza e una macchina da cucire di cosa ci può parlare di un partner che usa questo strumento o che voi siete appassionati di nuovo progetto o che magari conoscerai una nuova persona in un corso di cucito sartoria stilismo scrivetemi nei commenti di cosa vi parlano questo gatto foglia angelo e macchina da cucire scorpione e vediamo che magica porta si apre per te a dicembre che consigli ecco qua e si chiama palmistry vuol dire leggere la palma della mano ti dice fortune and tarot collective destiny the palm lines from birth tell your sacred palmistry vi sta svelando un indizio scorpione dice che la fortuna il futuro il tarot il destino collettivo l'inconscio collettivo dice che sono tutti nella palma della nostra mano nelle linee della mano dalla nascita raccontano il tuo sacro destino io credo che vi stia istigando un po ad abbracciare il mistero e a scoprire anche questa verità magari facendovi appunto leggere le carte o leggere le linee della mano di investigare magari sul vostro albero genealogico sulle costellazioni o la terapia sistemica insomma vi dice di investigare un po sulle vostre origini di qualcosa che vi accompagna dalla nascita scorpione e a voi piace da matti scoprire misteri quindi dice che c'è un mistero da scoprire con un prezioso messaggio già nel palmo della vostra mano che alleato per chiudere in bellezza e poesia dicembre per lo scorpione eccola qui ed è sea witch la strega del mare sembra una baby ursula della sirenetta 67 qua parla di nuovo abbiamo l'energia di movimento attraverso il mare guardate com'è carina mi ha ricordato subito la carta del matto questo vola e questa viaggia per gli oceani ma si tratta di viaggio di innocenza di gioia di vivere di giocare e di meravigliarsi questa piccola sirenetta chiamata anche la streghetta del mare vedete come anziché la coda ha è una medusa diciamo nella sua parte del corpo i suoi capelli sembrano dei tentacoli come di un polpo quindi è come un ibrido e ha questa specie di mulino a vento che la sera che le aiuta ad avere velocità o a seguire la corrente e ha questo grandissimo pesce occhione che le fa compagnia durante il suo viaggio è giovane e usa la magia proprio come un bambino tutto qualsiasi strumento è magico qualsiasi strumento che lei incontra lungo il tuo sentiero aumenta quel mistero quella creatività quella voglia di scoprire la vita in un modo giocoso giocare con le onde meravigliarsi di tutto ciò che incontra nel suo cammino scorpione vi chiede di essere come questa streghetta del mare questo mese di ritrovare questa innocenza questa connessione col bimbo interiore l'amore per la vita il vedere tutto possibile fate cadere il velo dell'adulto dai vostri occhi vivete alla giornata come se non ci fosse un domani come se tutto fosse da scoprire con occhi nuovi questo è il messaggio delle carte quindi connessione al bimbo interiore verità rivelate dare un salto di fiducia tutto già scritto nel palmo della mano potete investigare novità aprire la comunicazione tempo al tempo tre assi scorpione asso di coppe amore amor proprio asso di spade nuova consapevolezza idee creatività e asso di bastoni nuova passione abbiamo quasi tutti gli elementi quindi abbiamo i segni d'acqua cancro pesci scorpione gemelli bilancia acquario ariete leone sagittario l'unico che manca è la terra la connessione a terra parlava di lasciare andare il risentimento per poter vivere a meglio la vita amorosa perdono e di accettare le cose e le persone così come sono con la leggerezza ricordati non devi controllare tutto non sei dio scorpioni carissimi anche oggi qui davanti alla tarot la stella è tutto io vi mando un bacione grande grande spero che abbiate risuonato con i messaggi della lettura fatemelo sapere nei commenti a presto scorpione ciao